La mia famiglia non poteta, quindi sono venuto lassù. Sei stato invitato anche tu. Anche io ho ricevuto una lettera di invito, dato che mio padre possiede una quota azionaria di una delle aziende che sponsorizza l'Ayexpo. E visto che nella lettera di Yawomo erano eppure i tuoi accompagnatori... L'ha stracata quanti c'è il punto e me! Tu l'avrò perso! Abbiamo tirato a sorte, ed è così che siamo venute qui insieme a lei. Però anche le altre presto verranno qui insieme. E' la locca, no? Abbiamo il programma di visitare l'Ayexpo insieme. Quando aprirà il pubblico? Sarebbe stato invitato a stipostia, capite qui! Ah, oggi davvero! E' viva il raggio! Non facciamo venire! Ehi, la casa! Prova completamente in seguito, sei in ottava posizione! Qui non ti riesce, ma! Mi ha commentato anche lui è un... Esatto, è un mio compagno di classe. Bene, ecco il nostro piano Appettato Siamo via A dire in attacco Con Tristria Ehi, ma io raggiungo Non è vitoria Ehi, ma io raggiungo Ciao, ma tu ci fanno Come bella per il mio canzino Ma adesso smetti da Marco Vediamo il ragazzo Non si è raffiato Si comporta sempre con un solito E non è così, mi dire Chierisci, ma anche voi E hai ricevuto una lettera d'invito? No, l'hai ricevuta, Marco Perché abbia vinto Il festival sportivo della UA Io lo sono accompagnato Sentite, l'appronterete anche voi Questa prova? Per dire, però sono sempre E' più che ovvio che non possono fare meglio di me Già, hai perfettamente ragione Ma se non ci provi, non potrei mai sapere Ma anche questo è vero E' una spingata e voglio trovare una figata Spingata di un'arte Sì, come è? Al fondo vale, è il ricammo nuovo che mi ha detto Il tuo qualissimo risultato non lo voglio tenere Ormai sono un po' Tantone, tantone Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh